Per essere sponsorizzati vi lascio il link in descrizione Andateci perchè è importante Cioè se volete essere sponsorizzati andateci Seguite tutti gli step Cavoli vari Ragazzi mi sono aperto una nuova pagina instagram Se volete andarci mi chiamo Trick Trattino basso Official Se volete Vabbè comunque lo trovate sotto nella descrizione Iniziamo subito con lo sponsorizzare Il primo canale di oggi Alfa Slender Youtube Ragazzi questo ragazzo Fa video su clash Fa Comunque video molto divertenti Come vedete Farà video su minecraft Quindi mi raccomando ragazzi Passateci veramente sul suo canale E iscrivetevi Poi Ragazzi abbiamo HunterGhost Zero Zero Questo ragazzo È veramente molto bravo Ha un Porta svariati video sul suo canale E Comunque vlog Ha fatto pure un video del romix Con youtuber Giochi retro Quindi ragazzi Veramente passateci E iscrivetevi Fa veramente vlog bellissimi E Comunque molto vario sul suo canale Se vi vedete foto con gli youtuber Passateci veramente un like E una bella iscrizione Sul suo canale Poi Abbiamo Niko Joystar Niko Joystar È un Ragazzo che Veramente Comunque Io lo seguo E Fa video veramente Belli E Su clash of clans Comunque vlog Di Thailand Tutte Comunque È un Piccolo gamer Che Spero che cresca E Da prenda Una bella strada Su youtube E Quindi Passateci È una bella iscrizione Sul suo canale Ragazzi Mi raccomando Poi ragazzi Abbiamo Niki Game Che è Un Un Ragazzo Che fa video su youtube Su clash Vlog E Fa video veramente Comunque vlog Di qualsiasi tipo Quindi ragazzi Video molto divertenti Video su clash Che a me piacciono tanto E Veramente Fa unboxing Molti video Veramente Molto molto belli E Quindi Ragazzi Passateci Dateci un'occhiata E iscrivetevi Abbiamo Italian Gamer Joe Ragazzi Italia Gamer Joe È Un canale Che Track Che tratta Di gameplay E Fa molto Video molto Vari Comunque Per esempio Qua ha fatto un contest Fa video su Su minecraft Comunque È molto attivo Sul suo canale Merita molto Questo ragazzo Quindi ragazzi Passateci Iscrivetevi Guardate qui Fa veramente Molto Molto I video Veramente Molto Molto Belli Ragazzi Ragazzi Mi raccomando Un bel Pollicione È una bella Iscrizione A questo ragazzo Perché merita Veramente Tanto Ok ragazzi Per oggi Io avrei finito Come vi ho detto Uscirà Una sponsorizzazione Ogni Ogni Settimana Quindi ragazzi Iscrivete pure qua sotto Hashtag Partecipo E Comunque Seguite Tutti gli step Mi raccomando Vi lascio Il link In descrizione Del video In cui spiego Tutti gli step E ragazzi Da qui Da Rick è tutto Se il video vi è piaciuto Vi invito a lasciare Un bel mi piace Condividere Mostrare I vostri amici E Ti rivediamo In un prossimo video Bella a tutti ragazzi Ciao